oggi per l'angolo del collezionista siamo nella barca bolognese faremo la conoscenza con quest'uomo quest'uomo è un collezionista no io veramente sono un allevatore di vacche come lei non colleziona un po? ah quello la? no l'ho preso una settimana fa in un mercato dell'usato costava poco mi sembrava messo bene allora l'ho preso perché mi serviva come legnaia legnaia? perché non entra l'acqua e poi vede che non tocca terra? eh già io non pago lici un bel risparmio ha ragione ma è soddisfatto? solo che sì sono soddisfatto però ho un piccolo problema perché da quando ho quel zavaglio lì ho la sensazione che le vacche facciano un pochino meno di latte ah sì? non so io penso che possa essere sente questo sibilino che fa sì? non si riesce a togliere non si riesce a togliere io non vorrei che le vacche fossero disturbate altro che il sibilino è l'idiota di mio cugino che ha preso l'intercettore ecco cugino adesso alcanza me mi scusi così impari a disturbarmi le vacche non le pari di aver esagerato? non si preoccupi tanto di cugini né un mucchio adesso mi scusi sa devo andare a mungere ci figuri l'angolo del collezionista vi rimanda alla prossima settimana forse forse